Grazie a tutti. 3 ore. Non parlavo dei giornalisti, parlavo del fessio dei giornalisti. Se tu fai la cosa alle 3 con Vulpio, saluti i giornalisti, cioè vai, siamo a colazione con loro, perché l'inaugurazione sarà la mattina immagino. Quindi avremo lo struscio. Chiama subito la cretina e chiedile se inaugura la mattina. Io arrivo lì a mezzogiorno, faccio un po' di colazione con questi scassamichi. Ma in realtà lei farebbe l'inaugurazione, quella ufficiale, il 14. Io il 14 non vado alle sue inaugurazioni, non voglio... Devo andare tutti i giorni a questo festival del cazzo. Ci vado i 13 e i 15, non è che devo andarci... Vabbè, dille che i 13 o le 7 devo essere alla veglia. E' un coglionito, sono. Grazie.